Ciao a tutti ragazzi, oggi sto per parlare di Chucky, la bambola assassina, però il suo vero nome è Chucky, eccolo lui, mettiamo a spostarci Ecco lui, Chucky, la bambola assassina tagliata ma quella è pulita Viene rasata col suo cottello Era però veicola Questo sarà lui che vuole portare indietro a tornare della sua anima dove è rimasta E' questo la verità, è questo che vuole Vabbè, quella di Dambola è la magia che porta a tornare in sua vita per portare il suo posto della sua anima entrato Ok, sono stati sul mio canale e ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti